benvenuti nel mio canale di youtube oggi affronteremo una sfida un'altra sfida lanciata dal mio amico hotshot la sfida è giocare tutti contro tutti arrivare primi ed utilizzare la visuale invertita oddio oddio fermo fermo dove vai cioè se a solo in pratica se io vado giù lui vai su però a destra e a sinistra è uguale questo è difficile come cosa fermo dove girati non fatemi bestemmiare perchè fermo dove cazzo fermo vai ok fermo no ok ci sono sto imparando un nemico un nemico un nemico nooo dai vendetta vendetta vera cane no è su è su è su ho visto un coso su no no è morto oddio non ci credo c'è uno qua c'è uno qua su 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 vai 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 su dove vai guarda cane oddio ma dai ma perché guardi per terra attenzione ma dai ma porca troia era in quell'ultimo vabbè facciamo un'altra perchè troppo cioè vita partita ho fatto dobbiamo di farci una classe un po' più carina cosa non so che armo usare usare il padre c'è non l'ho proprio mai non l'ho mai usato ma c'è no ve l'ho usato qualche volta in vitro uccisione però non mi è piaciuto con cosa con cosa con cosa con cosa oh farò il ciò cronate dai 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 tattico tattico nemico localizzato grande grande doppia fermati ma che pirla ma io non lo so raga c'è gente così che gioca a ghost ma c'ho supporto buh bella si ma dai ma non puoi giocare in questo modo sta laggando comunque cioè non so se si noterà nel video però a me mi sembra a me mi non si dice a me sembra deve essere un bambino delle elementari a me mi non si dice dai ma stai fermo oh sono secondo attenzione raga queste cose non me le aspettavo dai cavolo lancia puffi come faccio a usare la lancia puffi come faccio ah ma vaffanculo adesso lo lancio oh giubbotti adesso mi li metto adesso mi li metto cioè intanto la sfida dovrebbe valere lo stesso fermati ma stai ferma dove guardi giubbotti giubbotto 2-3-10 kill io ormai raga mi sa che la sfida ma vaffanculo non commento dai mi va il crew la sfida fallita 35 litri buono e niente non ne faccio un'altra perché sennò dopo magari viene fuori la lite che non sono abituato quindi vabbè sconfitta e se avete delle mail delle sfide da proporre mi propormi mandatemi un'email con dettagli e bella vi invito a mettere un like e a scrivere il mio canale e niente bella raga al prossimo video bella 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 bella